Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La trasmissione Mattino 5 condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi sta dedicando molto spazio al caso della Madonna di Trevignano, con la presunta veggente Gisella Cardia. Anche quest'oggi nel corso del programma in onda su Canale 5, si è affrontato il tema e in collegamento proprio da Trevignano via Rapaono Brosio. Mentre era collegata con Federica Panicucci, la conduttrice ha notato che Brosio guardava spesso il cellulare. A quel punto le è venuto spontaneo chiedergli che stesse guardando il cellulare perché aveva ricevuto un messaggio dalla veggente. Alla domanda postagli dalla conduttrice, Brosio ha risposto negativamente, chiarendo il vero motivo che lo stava portando a guardare più volte il cellulare mentre si trovava in diretta. Lo stesso Brosio ha spiegato alla Panicucci di essere molto triste perché sua mamma non è stata bene e io sono qua, sono angosciato. A quel punto la Panicucci ci ha tenuto a mandare un abbraccio caloroso alla mamma. Brosio, poi, ha spiegato che la madre si trova ricoverata nel reparto di medicina d'urgenza all'ospedale Versilia, mentre lui si trova a Trevignano a lavorare. Di fronte a quelle parole la Panicucci ha assicurato al giornalista di non preoccuparsi e di recarsi a trovarla. Corri da tua mamma.